come foglietta perché senza di loro questo non sarebbe potuto accadere ringraziamo come sempre il nostro fonico che ci segue da due anni Massimo Massimo Leonardi senza di lui tutto questo non può accadere però un sentito grazie va all'associazione Agli di Esferia che ci ha ospitato qui per questa prima festa delle pizze fritte ringraziamo anche l'amministrazione comunale perché da tanto anche al nostro paese almeno sostiene queste manifestazioni